Questo è il cammino di Gigi D'Agostino Dai un po' sulle mano che ho comprato un effetto nuovo sulle mano tutti quanti tutti insieme forza Hai visto all'arte parti fanno tutte cose veloci invece qui si fa lento violento quello vero Qui si fa lento violento quello vero Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti